A tre anni della chiusura il laboratorio politico Gagarin 61 torna in centro storico. Quando ci sarà l'apertura e dove andrete, dove aprirete la sede? Allora, il Gagarin 61 riapre con lo stesso nome della vecchia sede in via Mario Capuani a via Nazario Sauro 52. L'apertura, la prima serata, sarà domani, venerdì. Ospite d'onore per la presentazione del locale ci sarà Rosa, la mamma di Davide Cesari, un ragazzo ucciso alcuni anni fa a Milano dopo un agguato di alcuni esponenti dell'estrema destra milanese. Pensiamo di mantenere comunque una linea di continuità con il vecchio locale che era uno dei pochi locali a Teramo e al momento pensiamo l'unico che non sia il solito bar ma sia un luogo di aggregazione diverso dal solito bar che troviamo in piazza a Teramo. Oltre che un luogo di aggregazione è comunque un luogo di discussione dove porteremo avanti diverse tematiche come lo sport popolare insieme alla polisportiva Gagarin o il tema legato alle droghe pesanti che è un problema veramente pesante nella città di Teramo o magari anche nel nostro piccolo tematiche di politica nazionale che può essere il tema dell'immigrazione o politica internazionale come può essere la situazione in Medio Oriente. Inoltre abbiamo anche intenzione di mantenere una certa linea di continuità anche con il vecchio locale Tana Libera Tutti che ci ha lasciato il posto, ovvero vogliamo dare spazio a chi ha idee e progetti. L'apertura sarà un'apertura serale, pomeridiana, come intendete organizzare? L'apertura inizierà alle 19.30 domani pomeriggio con la madre di Dax, Rosa e dopodiché dopo una breve presentazione locale e del progetto del Gagarin 61 ai presenti partiremo con un piccolo DJ set.